Sì, un po' di amaro rimasto dopo questa partita. Siamo stati lì, siamo stati molto bravi, anche in quelli sedi dove li abbiamo persi, però dobbiamo portare pazienza. Siamo all'inizio di questa stagione, c'è da imparare da questa partita, però io ci credo che siamo forti, riusciamo ad arrivare a fine Coppa Italia e a fine campionato con buoni risultati. Quindi io ci credo che siamo forti, credo che dobbiamo crescere e imparare la Supercoppa. È stata la prima gara difficile da quella che dobbiamo imparare. Sì, Gabi ha fatto una partita della Madonna, già ieri ha fatto vedere che lui ci giocherà se entra nel campo. Io ci credo, tutti i ragazzi che qua lavoriamo siamo un gruppo molto compatto, quindi io non vedo problemi, è stato bravo ad entrare, ha dato energia, ha dato tutto quello che poteva. Niente, ognuno deve fare qualcosa di meglio e arriviamo a vincere qualche partita importante.